Il corpo della vittima presentava sette ferite di profondità disomogenea, ma tutte provocate da un oggetto affilato e seghettato, come un coltello da cucina. Signorina Bataia, che rapporti aveva con la vittima Flora Dufour? Eravamo amiche, migliori amiche. Lei conferma dunque che non ha né aggredito né ucciso Flora Dufour? Sì, è così. Sapeva che Flora e Liz avevano litigato un mese prima dei fatti? So che Flora aveva postato un video e non avrebbe dovuto. Ma ignorava che si trattasse di un video pornografico che riguardava sua figlia, è così? Era una ragazza aperta, degli amici avevano già fatto roba con lei. Tutti quanti parlavano male di lei, le davano della troietta. Liz era nel posto sbagliato al momento sbagliato. È riportato che Liz Bataia ha minacciato Flora Dufour scrivendo «Io ti ammazzerò, sei morta». C'era il DNA di Liz Bataia e di nessun altro sul corpo della vittima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.